Negli ultimi mesi la didattica a distanza e la didattica digitale integrata hanno modificato molto l'approccio alle lezioni. In questo breve video abbiamo raccolto tre consigli per utilizzare la stampa 3D a scuola gestendo le lezioni sia in presenza che in remoto. Il primo consiglio che vediamo è quello di utilizzare una nuova funzione di Tinkercad, che è una app che noi utilizziamo spessissimo e che riteniamo molto utile soprattutto in ambito scolastico. Da poco su Tinkercad è stata aggiunta la modalità classe, quindi che vi permette di creare un'aula virtuale con all'interno tutti gli studenti e ogni studente ha il suo spazio di lavoro. In questo modo il professore o l'insegnante ha l'accesso simultaneo a tutti i lavori dei ragazzi e in questo modo può sia monitorarli sia intervenire direttamente all'interno della classe, come vedete è possibile modificare. Il bello di questa funzione è che non c'è bisogno di essere collegati tutti insieme. Vi ricordo che Tinkercad si basa su una piattaforma cloud, per cui ogni ragazzo può lavorare in modo autonomo e indipendente. Per cui quello che di solito consigliamo è quello di assegnare un tema e poi far lavorare i ragazzi in autonomia sull'app. Se avete bisogno di approfondimenti sull'utilizzo di Tinkercad, vi ricordo che sul nostro sito c'è un videocorso molto completo, gratuito e che per accedere basta registrarsi su palios.it. Il secondo consiglio è sulla gestione della stampante. Quindi naturalmente quando tutta la classe lavora è probabile che abbiate molti file da gestire, anche contemporaneamente. Quindi in questo caso la cosa migliore da fare è ottimizzare il più possibile l'orientamento dei pezzi sul piano di stampa. Tutti i software di slicing vi permettono di farlo e lo fanno sia in maniera automatica che manuale. Ora io vi ho messo qualche file da esempio, quindi come vedete io posso semplicemente spostare tutti gli oggetti all'interno del piano di stampa in modo da fare un'unica stampa, un'unica lavorazione e non una per ogni file. Lo posso fare sia manualmente, come vedete, oppure posso chiedere al software che lo faccia lui per me. Questo vi ripeto è un software di slicing ma praticamente tutti i software vi permettono di fare questa operazione. Infine il terzo consiglio è quello di gestire molto bene i tempi di stampa, che ci sia uno o più oggetti sul piano. È chiaro che uno dei difetti più grandi e conosciuti della stampa 3D è quello di avere i tempi di stampa abbastanza lenti. Quindi in questo momento se uno invece ha bisogno di stampare molti oggetti in tempi relativamente stretti, la cosa migliore è agire su due valori. Il primo sicuramente è la qualità di stampa, quindi diminuendo un po' la qualità di stampa, di solito si stampa a 0.3-0.35 mm per layer, la stampa si velocizza molto. Vi faccio vedere. In questo momento io sto stampando a 0.2 mm, quindi la mia stampa ci metterà circa 2 ore e 58 minuti. Bene, guardate cosa succede se invece cambio questo valore e lo porto a, per esempio, 0.35. ecco che la mia stampa si ridurrà notevolmente un'ora e 50 per avere sostanzialmente il solito oggetto, molto spesso come risoluzione 0.30-0.35 in ambito scolastico va benissimo. In alternativa si può diminuire dove possibile anche la quantità di riempimento interno, questo vi farà guadagnare ancora più tempo ma ha qualche insidia in più. Se vi interessa l'argomento, vi ricordo, sempre sul nostro sito avete tutti i webinar dedicati alla stampa 3D dove questi argomenti sono affrontati in maniera un po' più approfondita. Registratevi gratuitamente e andate a vedere questi webinar dedicati alla stampa 3D a scuola sempre, quindi applicazioni in ambito curriculare, quindi sulle varie discipline e alla fine di ogni webinar trovate anche dei consigli tecnici. Bene, vi ringrazio per avermi seguito e vi ricordo che potete iscrivervi al sito palius.it per accedere gratuitamente a tutto il nostro materiale didattico. Infine vi chiedo di inviarci tramite i nostri canali delle domande, delle curiosità inerenti, la stampa 3D, il coding, la robotica, in modo che nei prossimi video cercheremo di rispondere il più possibile alle vostre domande. Grazie a tutti e a presto!